Sacchetti va via e vede Guidetti lasciato solo, lancio e tiro al volo di grande potenza. 1-0, da qui al pareggio dell'Inter passerà un'ora e un quarto di attacchi vani. L'Inter pareggia al 35esimo, da una rimessa laterale di Oriali, il centro di Bagni e la respinta di un difensore. Tira Bergomi e Garella sfiora solo la palla, fa 1-1.